Compia oggi 100 anni il pittore cilentano Hans Wilkins Desiderio all'anagrefe Giovanni Desiderio, nato a Capaccio il 21 aprile del 1921. Cittadino del mondo fin da giovane ha intrapreso una pittura policromica via via, perfezionatasi secondo i canoni del post-espressionismo tedesco e tramite importanti contatti con le avanguardie europee, in particolare durante il periodo di formazione in Germania che lo hanno portato ad essere apprezzato in tutto il vecchio continente. Autore di mostre personali in tutto il mondo Hans Wilkins Desiderio è noto per la carica espressiva e l'innovatività della sua pittura ispirata in maniera originale ai paesaggi di pestume di tutto il Cilento. Da parte della redazione di Cilento Channel i migliori auguri per il suo centenario.